La Pentecoste è il battesimo della Chiesa che, guidata dallo Spirito Santo, inizia così il suo cammino nella storia. Papa Francesco lo ricorda a Regina Ceni in Piazza San Pietro, sottolineando che la Chiesa nasce in quel momento già connotata di universalità, con un'identità precisa che abbraccia il mondo intero senza escludere nessuno. Lo Spirito Santo è fuso a Pentecoste e sottolinea l'inizio della nuova stagione, la stagione della testimonianza e della fraternità. La fiamma dell'amore tocca i cuori di tutti, senza distinzione di lingua, razza o nazionalità. Anche oggi la Chiesa è chiamata a compiere la sua missione, uscire dalla mediocrità e dalle chiusure per comunicare l'amore misericordioso del Signore. Dopo la preghiera mariana il Papa ha ricordato la beatificazione di Monsignor Oscar Romero, arcivescovo di San Salvador, ucciso mentre celebrava messa. Un zelante pastore lo ha definito che scelse di stare tra i poveri e gli oppressi, un servizio condiviso in Kenya anche dalla beata Suori Rene Stefani delle missionarie della Consolata. Infine ricordo di Francesco per l'entrata in guerra dell'Italia cento anni fa e l'appello del Papa alla comunità internazionale dinanzi al dramma dei profughi. Continuo a seguire con viva preoccupazione e dolore nel cuore le vicende dei numerosi profughi nel Golfo di Bengala e nel mare di Andamanni. Esprimo apprezzamento per gli sforzi compiuti da quei Paesi che hanno dato la loro disponibilità ad accogliere queste persone che stanno affrontando gravi sofferenze e pericoli. Incoraggio la comunità internazionale a fornire loro l'assistenza umanitaria. Grazie a tutti.